Michele, io sono comunque, adesso sto sniffando degli odori delle cose bellissime, nel senso buono, nel senso che le annuso con gioia e in questo momento ti chiedo comunque se c'è qualcosa nella vita che ti imbarazza, c'è qualcosa che ti imbarazza Michele nella vita? Secondo me no Quest'intervista? Non ti credo, non ti credo Credo di no Ti vedo rilassatissimo Sai che una cosa che ti invidio? Il cappello da cuoco è una delle cose più belle da vedere E beh, è bello, posso provarlo un attimo? Posso andare di là? Vabbè, guarda, lo faccio tra un attimo Lo faccio tra un attimo